Cari amici vi vorrei raccontare una barzelletta su un ragazzo che stava andando con la 500 sull'autostrada Allora questo ragazzo stava viaggiando sull'autostrada con la sua 500 A un certo punto si vede passare la prima Ferrari a 200 km orari La seconda Ferrari a 250 e la terza Ferrari a 300 km orari La sera stessa stanno tutti e quattro all'ospedale sui letti nella stessa stanza Allora si chiedono perché tutti e quattro qua in ospedale Il primo della prima Ferrari dice io andavo a 200 km orari alla prima curva Sono andato a sbattere sul palo e mi sono ingessato braccio, gambe e piedi Quello con la seconda Ferrari a 250 km orari dice io ho beccato un cane e mi sono capovolto e sto qua in ospedale Mi sono fatto due ingessature e ho la spina dorsale rotta La terza Ferrari che andava a 300 km orari Mi sono andato a sbattere contro un carro e sto qua con tutto il gesso al braccio La spina dorsale rovinata A un certo punto chiedono a quattro la 500 e gli dicono scusa ma tu perché stai qua? Nè io credevo di stare fermo, sono sceso dalla macchina e mi sono capovoltato da solo La spina dorsale rovinata La spina dorsale rovinata